Il Covid è più di un anno che gira e quindi se si riesce a girare il problema penso che è la cosa migliore. Controlli a tappeto a caccia di positivi, soprattutto asintomatici, per evitare eventuali focolai. Così lo screening di massa territori sicuri questa mattina ha fatto tappa anche a Lucignano. Si tratta di uno dei 76 comuni della regione toscana sotto osservazione per il volume alto di contagio. Purtroppo dal focolaio nelle scuole medie i numeri sono saliti però credo che prontamente abbiamo cercato di arginarlo e Territori Sicuri è una grossa opportunità per fare un tracciamento serio e quindi magari fra una settimana poter far tornare i nostri ragazzi sicuri dentro le nostre scuole che per noi è una priorità. Abbiamo cercato di fare anche altri provvedimenti come la chiusura di parchi e giardini che rinnovo e sarà attiva anche nella prossima settimana. A Lucignano così come deciso dal nuovo comitato per l'emergenza e la sicurezza scolastica, aule chiuse dal prossimo lunedì per cinque giorni. Sì, è una misura di prevenzione laddove la curva accenna a risalire. Il miglior modo per contrastare il virus è quello di anticiparlo, individuarlo ed isolarlo. La postazione a Lucignano si trova nell'area del parcheggio Porta Murata. Qui i cittadini potranno effettuare in modo gratuito il tampone molecolare per la rilevazione del Covid-19. C'è una grossa adesione, abbiamo visto i numeri stamattina, ci danno una certa tranquillità. Abbiamo superato abbondantemente gli 800 tamponi prenotati, quindi c'è una adesione sicuramente della popolazione che sente il bisogno di uscire da questa situazione. Lo screening proseguirà anche domani. Per sicurezza, quindi avere la certezza di non avere nessun tipo di problema.